Mi avevi detto che ero l'unica. Sì, sì, l'ho detto, ma c'era l'asterisco. Asterisco? Io non ho visto nessun asterisco. Ti giuro, sei l'unica per me. Non è vero. Se non te l'aspetti, è comics. E con vita da comics, fatti una foto a un videocomics e vinci Samsung, un Galaxy A3 al giorno e un Tab A alla settimana.